Cominciate la L senza pressione, realizzate una curva, un occhiello, scendete a metà altezza, applicate una leggera pressione, curvate verso sinistra e di nuovo verso l'asta verticale della L. Cominciate la S senza applicare pressione, curvate, disegnate un piccolo occhiello, scendete a metà altezza applicando pressione e disegnate un ricciolo. Per la W cominciate con una curva senza esercitare pressione, salite leggermente applicando pressione verso il basso, salite il più in alto possibile rilasciando, scendete senza pressione e curvate verso l'esterno della W. Per la Y cominciate con una curva verso l'alto, applicate pressione e una leggera triangolazione, rilasciate prima di curvare e salite senza pressione, poi scendete e realizzate l'occhiello.